Cosa che ti sollettica qualcosa? Buonasera a tutti, proviamo a fare una sintesi senza stare ad allungarci troppo il più grande rinforzo, uno dei più grandi rinforzi che possiamo ricevere da questo calciomercato è la possibilità di riavere allo stadion Maradona i nostri tifosi per cui a volte può sembrare anche una presenza troppo primente quella dei nostri tifosi ma non è così, loro ci stimolano tutte le volte a dare sempre il meglio in campo e vogliamo averli al nostro fianco Grazie Luciano, grazie insomma ai tifosi